buongiorno amici bentornati sul canale nella sezione del trekking sul lago di liseo oggi siamo partiti da bossico e siamo diretti verso il monte colombina se non siete ancora iscritti vi invito a cliccare il tasto qui sotto e iscrivervi al canale stiamo salendo sui sentieri 553 554 del cai dal quale poi prenderemo la salita per il monte colombina ciao 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 abbiamo ora imboccato la salita che porta al monte colombina e ce l'abbiamo proprio qui davanti a noi alle nostre spalle invece la magia del lago di seo ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.